Ha confessato Luca D'Alessandro. Il giovane questa mattina nell'interrogatorio di garanzia del GIP Paolo Di Geronimo, presenti il PM Mari Caponziana e i due difensori, gli avvocati Marco Femminella e Monica Dorazio, ha raccontato tutto, ancora sotto shock. Adatto di aver sbagliato e di assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto, l'omicidio sarebbe stato l'epilogo di una lite, una lite tra ragazzi. Hanno impiegato appena 24 ore i carabinieri di Chieti, coordinati dal comandante provinciale Cavallari, per risolvere il giallo dell'omicidio della vigilia di Natale. Una giovane donna, Silvia Elena Manastireanu, rumena, appena ventenne la mattina del 24, era stata trovata nuda, in parte con il corpo sotto il letto, nella sua abitazione in via Montesirenti a Francavilla al mare. L'avevano trovata così i vigili del fuoco, dopo aver forzato una finestra per entrare. Erano stati allertati dalla zia di Silvia Elena, sul balcone il cagnolino, che per tutta la notte aveva abbaiato per chiamare l'attenzione. Troppo tardi, la ragazza da due anni in Italia aveva al collo evidenti segni di strozzamento. Dai tabulati telefonici dei cellulari della vittima, una traccia che porta i carabinieri ad un giovane 18enne di Chieti, Luca D'Alessandro. Un ragazzo come tanti, studente, bravi genitori, all'ultimo anno di un istituto tecnico privato. I militari lo trovano sulle scale della casa dei nonni, poco a nord della casa di Silvia Elena. Sta giocando con un PC. Nella perquisizione i carabinieri trovano lo zaino, il suo. Dentro ci sono effetti personali della vittima, le chiavi di casa, chissà perché l'assassino uscendo dall'appartamento ha chiuso la porta a doppia mandata, i cinque cellulari, i documenti, 1.400 euro in contanti, valuta messicana di un recente viaggio della ragazza all'estero, un orologio. Il ritrovamento inchioda il Luca D'Alessandro. Ma perché? Qual è il movente? L'avvocato femminella, che ha provato a parlare con il ragazzo poco dopo, il fermo racconta. Forse non ha ancora capito cosa sia successo. Non sa spiegare perché, vista da fuori, dalla famiglia di provenienza, è difficile spiegare perché sia successo. Però gli interrogativi non finiscono qui, con il semplice fatto in sé. Un raptus di follia? Cosa lo ha scatenato? Luca in passato sembra abbia avuto qualche problema. Guida in stato di ebrezza, nulla di trascendentale. Come può capitare ai ragazzi della sua età? Poi, tre mesi fa, una crisi di rabbia, forse indotta da droghe sintetiche, si barricò in casa e dovettero intervenire i carabinieri. Il ragazzo era cambiato, era diventato chiuso, scontroso, raccontano. Qualcosa di simile la notte di venerdì 23 dicembre. Forse innamorato di Silvia Lena non sopportava di dividerla, ancora con il suo lavoro di escort, con quei tre telefonini che chiamavano ad ogni ora per prendere appuntamenti. Oppure l'amica gli ha rifiutato dei soldi. Magari ha cercato di fargli capire che i loro mondi sono così diversi e lei non aveva alcuna intenzione di cambiare il suo. Non ne sarebbe valsa la pena, seppure Luca fosse un amico simpatico, ma niente più. I due avrebbero litigato quella sera. I vicini raccontano di urla, almeno fino alle 22. L'assassino per ora ha un nome, Luca D'Alessandro. Qualunque sia stato il suo movente, anche nell'interrogatorio di questa mattina, in carcere a Madonna del Frento non lo ha chiarito, purtroppo non sarà la fine di una tragedia e la vittima non sarà solo una giovane di 20 anni.